Siamo col portierone Gigi Buffon! E che portierone, eh? Che ci dice lui, no? Peruzzone! Eh, che autocolle! Non so dove ci abbia portato De Santis, ma questo è proprio lui! Ecco qua! Carissimo! E passiamo ai difensori! Zaccardo in acrobazia! Preciso! E questo è destra! Per la sicurezza, si sa! Otto! Non è il 1993, però, eh? Quindi... Anche...